La visura della Camera di Commercio è come la carta d'identità di un'impresa e per legge contiene tutti i suoi dati fondamentali ed obbligatori. Quando è stata iscritta il registro imprese, il o i nominativi delle persone a cui appartiene, il suo indirizzo PEC, la sua partita IVA, il suo numero REA, la forma giuridica, dove è la sua sede e gli eventuali indirizzi delle sedi secondarie, se è attiva, qual è l'attività svolta e molte altre informazioni. Ma come si fa a scaricare gratuitamente la propria visura e soprattutto come si fa a consultare tutto quanto riguarda la propria impresa come l'atto costitutivo, la situazione del proprio diritto annuale, il bilancio e tutti i documenti del SUAP immessi dalla Camera di Commercio o dal Comune? Con la tua CNS, Carta Nazionale dei Servizi o con lo SPID puoi accedere su www.impresa.italia.it al tuo cassetto digitale di imprenditore che contiene proprio queste informazioni. Puoi entrare direttamente nel tuo cassetto digitale anche dal tuo smartphone perché è come avere il registro delle imprese sempre in tasca. In ogni momento, dappertutto e in modo molto semplice puoi accedere gratuitamente al tuo cassetto digitale per avere le visure, quella ordinaria, storica, le partecipazioni, l'elenco soci, gli atti, statuto, atto costitutivo, fusioni, nomi in amministratori, procure, i bilanci relativi a tutte le annualità disponibili, le dichiarazioni sostitutive, il modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al registro imprese per ogni firmatario e molto altro come pratiche su app, fatture elettroniche, situazione del diritto annuale. Se vuoi maggiori informazioni vai sul nostro sito www.to.camcom.it slash visure